Quarto punto nelle ultime due giornate, quarto posto e classifica conservato. In uno dei due anticipi del sabato, nel ventottesimo turno del girone F della Serie D, l'Avezzano impatta ad occhiali sul campo dell'Atletico Ascoli. La prima occasione pericolosa è per i marchigiani, con questo tiro alla distanza ai minicucci. Sempre gli ascolani vanno in pressione al ventesimo, ma non riescono ad incidere. La risposta dei marsicani è in questo tentativo di Verna e successivamente in questo tracciante di Ferrante di poco oltre la traversa. L'Atletico Ascoli si fa rivedere con minicucci, poi nel recupero della prima frazione, da calcio piazzato i bianco-verdi si rendono pericolosi con De Silvestre. Nella ripresa gli ascolani provano a forzare ritmi, Traini però viene murato, poi ci prova minicucci che mette fuori. Olivieri tenta la sortita ai 25 metri, ma Brusca intercetta. Al 75esimo cerca il jolly Gurini all'otto di sinistra, ma la sfera volto e la traversa, ed è questo l'ultimo brivido della contesa. Grazie. 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 Grazie.